Passano i giorni ma per le marinerie italiane la situazione diventa sempre più drammatica a causa dello stop alle attività per il caro gasolio. A Pescara pescherecci in porto con lo scoramento dei pescatori che cresce di giorno in giorno. Loro devono capire che le aziende non è che possono vivere la giornata in questo modo qua perché sulle imbarcazioni ci sono anche i dipendenti, le famiglie, le aziende che hanno i mutui e hanno spese. Non si può vivere la giornata tenendo ferme delle attività. Poi c'è tutta la filiera, la ristorazione, l'indotto della meccanica, l'elettricista, il frigorista. C'è un mondo dietro al settore pesca e loro purtroppo non ti ascoltano e decidono sempre loro con le associazioni. Io non è che so con le associazioni ma un membro della pesca ci deve stare chi sta sul pezzo tutti i giorni perché un conto sta su una scrivania e un conto stare sul pezzo tutti i giorni che tu lo tocchi con mano. Quindi oggi secondo me la soluzione migliore era cercare di avere un fermo, che lo chiamassero come gli pare, biologico, bellico. Nel frattempo che loro trovano le soluzioni per abbassare questo gasolio perché se no stiamo fermi in operaosi così come stiamo adesso, è abbraccio concerto, il giorno 16 abbiamo i pagamenti, le scadenze arrivano uguali e questa è la situazione di questa categoria a livello nazionale. Per il presidente dell'associazione armatori Francesco Scordella sarebbe stato giusto anticipare il fermo biologico a giugno anziché lasciarlo a luglio in una situazione sempre più complicata per il settore. Stiamo cercando di fare delle proposte a ridurre il massimo delle giornate, però se lavori poco, poco di compenso, ce ne avrai talmente basso che non so qual è la soluzione migliore. Il problema più grande è che noi purtroppo non abbiamo avuto questo incontro al Ministero della Pesca per avere un colloquio con chi proprio deve dirigere questo settore, quindi con il sottosegretario che volevamo fare della proposta in attesa delle misure che verranno adottate se era il caso di fare un fermo. Qua come si nomina la parola fermo sembra che scoppia la terza guerra mondiale, ma secondo me era l'unica alternativa in questo caso di stare fermi, e quindi non stavamo fermi a livello nazionale in operosi senza avere perdita di tempo, perché adesso siamo in queste condizioni, fra un mese e mezzo c'è il fermo biologico, voglio capire qual è la soluzione che hanno in mente questi qua.